Siamo in compagnia del regista del film Il Maestro più Margherita, è grave, lui che non sa questa cosa, di guardare sempre in telecamera. Tre pizze, Margherita Capricciosa e Marinara. Ma siamo sicuri che il posto è cio. Io devo guardare Anna Magnani, è la tendenza professionale. Io voglio guardare anche me. Anna Magnani in persona, cioè che mi intervista. Tutte due guardate me. Ma voi ci siete? Ci troviamo con... Come si chiama quella signora di cuore? Mi date una mano? Ecco Manorablus. Non tanto piace, ci è andato. Va bene, Gianni non ti posso guardare. Allora. Seri. Siamo in compagnia del regista del film Il Maestro più Margherita. Come mai... Non so che cacchio che volevo chiedere. E' dato nel pallone. Mi fatti emozionare Anna Magnani. Anna Magnani, cioè. Ma siamo sicuri che il posto è cio. Siamo in compagnia del regista del film Il Maestro più Margherita. Ci sono state difficoltà durante la registrazione? Sì, tantissime difficoltà dovute dal fatto che Anna Magnani non era sul set. Per cui mi sono dovuto inventare un personaggio particolare. Scusami, tantissime difficoltà. Via, facciamo la serie. Via, facciamo la serie, se no qua. Poi le vogliamo vedere tutte quante in onda queste... Ok, benissimo. Tutto registrato. Ok. Siamo in compagnia del regista del film Il Maestro più Margherita. Il Maestro più Margherita del film Il Maestro più Margherita. Il Maestro più Margherita del film Il Maestro più Margherita del film Il Maestro più Margherita.